Conoscere gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di pericoli, valutazione e gestione dei rischi connessi ai prodotti chimici e quali buone pratiche da adottare in azienda per la tutela di lavoratori e consumatori e per il rispetto dell'ambiente. Si svolgerà al Royal Palace Hotel di Messina mercoledì prossimo alle 15 il terzo incontro previsto nell'ambito del progetto formativo-informativo Chimica Amica promosso dal CEF Pass di Caltanissetta. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio dei regolamenti emanati nel 2006 dall'Unione Europea per prevenire l'esposizione al pericolo delle sostanze chimiche e garantire un uso corretto e controllato. L'incontro con i partner progettuali, le associazioni imprenditoriali e gli operatori economici del territorio si svolgerà presso il Royal Palace Hotel e nei mesi scorsi il CEF Pass ha formato gli ispettori in forza alle 9 Aspe della Sicilia incaricati di vigilare sul rispetto dei protocolli imposti dai regolamenti. Gli altri incontri si terranno il 5 aprile al CEF Pass di Caltanissetta, il 21 aprile a Catania, il 27 aprile ad Agrigento, il 3 maggio a Siracusa, il 10 maggio a Palermo e l'11 maggio a Trapani. Partner del progetto Chimica Mica sono l'assessorato alle attività produttive, l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, l'assessorato del territorio e dell'ambiente, ufficio scolastico regionale Sicilia.